Signori mei, la vita è una cosa meravigliosa e allora divertiamoci, d'accordo? D'accordo! 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 E allora, cosa aspetti? Altati! Non rimanere seduto! Altati! Dalla vita, puoi fare quello che vuoi! Quando lo vuoi tu! D'accordo? D'accordo! Ci può avere un caffè? Ci può avere un caffè? Quanti anni hai? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? 125? Sì! 235? Sì! Sei totale! Non patruglieri? Come? Non patruglieri? Devono partire! D'accordo! D'accordo! Assume che sono che ci balla male! D'accordo! 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 Sei totale! Sei totale! D'accordo! D'accordo! Il caffè! Ah! E tu di aprile! Cosa fai? Come sempre incontro e scolvi? Cosa te ne fai? Non lo fai che nella vita e scolvi non servono niente! Nella vita... Cosa serve? L'amore! Cosa serve? T'accordo! T'accordo! Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Ah, le chiavi, ho perso le chiavi, mi diri le chiavi, ma le chiavi, le chiavi della sua nitosia, della vita e dell'amore, sei d'accordo? Non sei d'accordo, non sei d'accordo? Devi essere d'accordo, perché? Perché la vita è amore, d'accordo! La vita è amore, voglio entrare nella tua vita!